Come è il nostro gruppo e la nostra azienda? L'evoluzione della tecnologia, l'evoluzione dei sistemi informatici ci hanno obbligati ad adeguare tutti i nostri processi e di implementare il più possibile queste tecnologie, che sono poi fondamentalmente, ed è la cosa più importante dal mio punto di vista, il cambio di mentalità a 360 gradi all'interno della nostra organizzazione.